Abbiamo anche degli ortaggi, qualche erba aromatica, rosmarino, barbabietola, questo è finocchio, girasole, sono stupendi. Tutto il cinema che ha affrontato il tema dell'olocausto è sostanzialmente ruotato intorno a una domanda. Qual è la maniera più corretta per descrivere una torcità? Quella di Alain René che in Notta e Nebbia lascia che a parlare siano soltanto le immagini, sottraendosi a qualsiasi giudizio che non sia semplicemente quello di una tragica contemplazione di un errore sovrumano? O quello di Spielberg che con Schindler's List ci mostra invece la tragedia del popolo ebreo in maniera dichiaratamente epica? Il regista inglese Jonathan Glaser, nella zona di interesse, sceglie una via del tutto personale e disturbante che si basa sul fermo rifiuto di mostrare qualsiasi accenno di violenza esplicita. Così nessun film sull'olocausto è mai stato talmente imbegnato nel mostrarci la banalità del male perché nessun film sull'olocausto è mai stato così determinato a ignorare del tutto il male nel momento che c'è letteralmente un muro di cemento a separare i personaggi dagli orrori della porta accanto. La storia è quella di una famiglia tedesca apparentemente normale che vive in una bucolica casetta con piscina, una quotidianità fatta di gita in barca, picnic in riva al lago, il lavoro d'ufficio del padre, i tè della moglie con le amiche, le domeniche passate a pescare al fiume. Peccato però che l'uomo in questione sia Rudolf Hoss, comandante di Auschwitz, e la deliziosa villetta con giardino in cui vive con la sua famiglia in una surreale serenità è situata proprio al confine con il campo di concentramento, a due passi dall'orrore, così vicino e così lontano, sottolineato da una torre di guardia, dalle urla soffocate dei prigionieri in lontananza, dal rumore degli spari e dal ribolire quasi ininterrotto dei forni crematori, tutte cose che gli abitanti della casa e i loro ospiti hanno imparato a ignorare. In questo modo Glazer ci mette di fronte a un terrificante disegno del male nella sua forma più pura, quella che si fonda su un'assoluta indifferenza verso le conseguenze delle nostre azioni, che è la materia prima su cui sono costruiti i veri mostri. È la visione di un regista che ci apre gli occhi sulla realtà di orrori che pensavamo di comprendere con una prospettiva nuova e sorprendente, e il suo punto di vista, che la follia depravata a volte passa inosservata a causa della sua inaspettata mediocrità, ha un impatto agghiacciante che nella terrificante politica di potere del nostro mondo di oggi appare più rilevante che mai. La presenza inespressa del male che viene resa chiara allo spettatore, ma quasi ignorata dalla maggior parte degli occupanti della famiglia Oss, rende in qualche modo la brutalità e l'atrocità della Seconda Guerra Mondiale molto più viscerali e di grande impatto. E alla fine, essere immersi così profondamente nella vita quotidiana di un assassino di massa e della sua famiglia, significa ricordare che non tutti gli attori della soluzione finale erano pazzi deliranti, come il loro Führer. Qui c'è una normalità, o almeno la sua impressione esteriore, che si rivela molto più sconcertante e impressionante di quella che potrebbe avere una malvagità evidente e articolata, un film che rifiuta radicalmente di chiudere la porta alla storia. A Est si trova il nostro domani. Grazie per la vostra ospitalità nazionalsocialista. Grazie per la vostra ospitalità nazionalsocialista.